Il tempo è come un fiume che scorre lento in un'unica direzione, ma io che l'ho visto da vicino, posso assicurarti che si sbagliano. L'Aklesidra racchiude un prodigio che nessun essere umano ha mai visto prima. Il pugnale è l'unica cosa che può liberare le sabbie del tempo. No! Fermo! No! Padre! Ho visto mio padre tramutarsi in sabbia! Ma il coraggio non basterà per sconfiggere questo nemico. Le sabbie inghiottiranno ogni cosa. Vieni con me. Ma ti avverto, sono molto veloce. Quindi, sbrigati! Principe! Il pugnale! Riporta indietro il tempo! Dammi il pugnale! Mai! No! Tutto ciò che è successo è causa mia. Sei coraggioso e buono. Farò! Non mollare! Cacolochiam. No, no. Non è andata così. 별 video. Partito di Caccia